Musica Oggi è martedì 20 marzo 2018, buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori di FanTV questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali in diretta come tutte le mattine alle 7.30 sia sul canale 17 in tutta la regione Marche e quindi il digitale terrestre sia sulle piattaforme YouTube e Facebook partiamo dal santo di oggi, vediamolo subito, il santo è San Martino di Braga il sole è sorto alle 6.11, tramonterà le 18.20, attenzione sta arrivando la neve è già arrivata, anzi lo vedremo tra un istante nell'entroterra ma arriverà anche un po' sulla costa anche se non avrà nulla a che vedere con quello che abbiamo passato all'inizio del mese di marzo oggi la protezione civile delle Marche prevede al pomeriggio precipitazioni a carattere di rovescio diffuse e più abbondanti nel settore centro-meridionale sparsi anche a livello nella provincia di Pesaro Urbino il limite delle nevicate è attorno ai 500-700 metri per domani, mercoledì 21, avremo precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio più abbondanti nel settore centro-settentrionale con accumulate a fine periodo moderato e nei settori interni maggiormente sparse nel settore collinare e costiero meridionale il limite delle nevicate è a quote basso-collinari localmente anche per brevi periodi fin sulla costa in particolare da Ancona fino alla costa pesarese poi il limite è in rialzo nel pomeriggio quindi avremo soltanto una incursione breve durante la mattinata attenzione perché c'è anche vento forte domani poi giovedì 22 continua a nevicare vedete nella zona interna della regione continua a nevicare mentre pioverà lungo la costa centro-meridionale dunque domani tempo ancora brutto mentre migliorerà nella seconda parte quindi da giovedì in poi con alternanza di fasi di tempo variabile dalla giornata di domenica quindi insomma prepariamoci ancora qualche giornata di cattivo tempo a proposito di neve guardate questa fotografia che ci è arrivata poco fa da uno dei nostri reporter di strada una immagine molto bella si vede arriva dal Carpegna con questa immagine che ci mostra la cima non solo innevata ma anche illuminata dal sole che fa un effetto con il contrasto dell'ombra sotto davvero straordinario andiamo a vedere subito i giornali questa è la foto notizia in primo piano si parla ovviamente oggi della bomba la bomba d'acqua che è scoppiata è stata fatta scoppiare ieri è stata fatta scoppiare ieri mattina alle 11 alle 11 circa ed è quello che ecco qua allora la pazienza ci vuole nel mondo allora la bomba d'acqua una colonna di 30 metri si è alzata in mare quando l'ordigno è stato fatto brillare sembrava il terremoto un po' esagerato ma comunque questo è il titolo sono le parole del sindaco che ha usato questa questo paragone insomma che era appunto sembrava il terremoto questo è il Corriere Adriatico la pagina del Corriere Adriatico con l'edizione di Pesaro ecco questa invece è la parte diciamo delle due le due pagine interne questa è una fotografia che ha diffuso la marina militare perché nessuno è stato in grado sia a terra che in barca di prendere questo nessuno tra i professionisti tra virgolette professionisti è stato in grado di prendere il momento esatto dell'esplosione quindi la marina militare invece che era lì sapeva qual era il punto eccetera eccetera è riuscita a fare questo scatto anche molto significativo come si può vedere il Corriere Adriatico mette questo riquadro fa questo riquadro con tutte le tappe di questa emergenza bomba che è iniziata il 13 marzo alle ore 9 quando appunto è stata segnalata una bomba nel cantiere di Aset in Sassonia e si è conclusa appunto ieri 19 marzo alle ore 11 e 15 quando la bomba è stata fatta esplodere a 6 metri dalla superficie dopo aver fatto detonare una microcarica esplosiva per allontanare i pesci andiamo avanti qui c'è tutto il racconto tutto quello che è stato raccontato anche dagli esperti da coloro che hanno effettivamente operato in mare l'intervento è avvenuto allo scadere della 144esima ora dall'allarme e poi l'applauso finale durante la conferenza stampa che vi abbiamo trasmesso in diretta sollecitato dal prefetto che appunto è servito un po' a sciogliere anche la tensione l'altra pagina invece del Corriere Adriatico l'attesa dalla riva aspettando il grande botto lo scoppio avvertito anche in centro il sindaco ha parlato come una scossa come se fosse stata una scossa sismica squadra e protocollo così le cose funzionano ha detto ancora ieri il sindaco Seri il prefetto ringrazia tutte le forze operative e fate attenzione scrive ancora il giornale ai residuati bellici perché dice il capitano di corvetta Trevisan che ha comandato i subacquei incursori che insomma è sempre comunque pericolosa anche se vecchia i cittadini evitino in qualche modo di maneggiare anche i residuati bellici di piccole dimensioni che dovessero rinvenire e in qualche modo chiede che vengano segnalati poi sulla questione della bomba torneremo tra un attimo e intanto andiamo a vedere le altre pagine del Corriere Adriatico Morandi alla Colle Marathon le manovre di corteggiamento domani Montanari che è l'organizzatore il patron della Colle Marathon alla Palaprometeo per invitare il cantante a partecipare dalla Valle del Cesano i funerali di un giovane 24enne di un giovane che si è tolto la vita venerdì sparandosi al poligono di Apecchio Tommaso scrivo queste parole per non andarmene in silenzio la lettera appunto di questo giovane commoziona al suo funerale la solidarietà del vescovo Trasarti da Vallefoglia invece ai giochi tra quartieri 2.0 la sfida durerà sette giorni parliamo di un successo che ha avuto una iniziativa partita l'anno scorso si torna agli anni Ottanta a Montecchio c'è già fermento per questa iniziativa estiva Urbino invece riattivate a Bocca Trabari almeno una corsia di marcia all'appello dei sindaci la regione faccia pressing sull'ANAS interrogazione di Biancani morto a Urbino invece a 84 anni Silvio Matteagi i funerali si sono svolti venerdì scorso e questa è la notizia faceva parte della società del soldo un ente morale che si rivolge alla tutela della terza età lasciamo la pagina di Urbino per quella di Fano del Corriere carenze per il rischio sismico stabiliti criteri delle verifiche il movimento 5 stelle ha evidenziato gli obblighi di legge in evasi dalle scuole e dal comune poi sotto gli studenti della Padalino onorano le vittime di mafia domani leggeranno i nomi di tutti i morti assassinati ancora la pagina di Fano del Corriere strada ridotta da Quitrino protesta dei residenti ignorata in via Frusaglia forte disagio per 18 famiglie di Villa Tombari e di quelle vicino all'Arzilla impossibile usare la bicicletta c'è anche una illuminazione scarsa la sera qui dicono è un incubo poi ancora infiltrazioni mafiose pure Pesaro è a rischio il prefetto Cincarilli all'incontro della CGL il sindaco Ricci dice qui io non ho mai parlato di Isola Felice e poi diffamò Burioni Red Ronni finisce nei guai la procura di Bologna citato a giudizio Red Ronni con l'accusa di aver diffamato Burioni professore ordinario di microbiologia del San Raffaele a Milano secondo il PM Cavallo il conduttore televisivo nel 2016 dopo un dibattito a virus pubblicò sul proprio profilo Facebook la mail di una persona che si riferiva al professore dicendo tra l'altro diverse cose che potete leggere insomma sul giornale di questa mattina ferite per tutte le critiche arrivate dal mondo social o chi parla qui parlano le nipoti di questo uomo di 90 anni questo anziano di 90 anni che è deceduto nei giorni scorsi all'ospedale San Salvatore e Raffano poi mi pare che si è stato trasferito durante l'emergenza bomba a Pesero e ha fatto scalpore la notizia che insomma per due giorni quasi due giorni adesso non so erano un po' di meno insomma quasi due giorni nessuno avesse avvisato i parenti che questo signore di 90 anni era deceduto sui social chiaramente si sono tutti schierati contro le nipoti che hanno detto ma come due giorni senza andare a trovare una persona che sta comunque ricoverata in ospedale insomma che volete di qua di là e sì in effetti la prima lettura potrebbe essere questa poi però le nipoti dicono e scrivono oggi una di loro si fa portavoce e dice beh purtroppo era l'unico giorno in cui non siamo riusciti ad andare a trovare nostro nonno e proprio quel giorno in cui è morto e nessuno però poi ecco qui la polemica tra infermieri e medici si è ricordato o ha fatto sì che qualcuno avvisasse la famiglia che appunto questo nonnino di 90 anni non c'era più e questa è un po' queste sono le pagine del Corriere Adriatico andiamo a vedere adesso il resto del Carlino in primo piano ovviamente la bomba missione compiuta questo è il titolo alle 11.15 è stata fatta brillare dai subacquei della marina la bomba una colonna d'acqua alta 30 metri e poi chiesta l'archiviazione per i 12 medici indagati per la morte di una mamma donna si chiamava Carmen il PM scagione a 12 medici non fu un loro errore è la pagina di Fanno che tra poco andremo a vedere mentre anche qui la notizia infermieri sul piede di guerra per il mancato avviso del morto Marche Nord annuncia comunque un'inchiesta interna il nonno deceduto ed i parenti non lo sapevano i sindacati però accusano non spetta la categoria cioè agli infermieri l'incombenza e non esiste un regolamento andiamo adesso sulle pagine interne intanto la bomba è stato come sentire un terremoto che disastro se scoppiava in spiaggia il sollievo del sindaco il prefetto non abbiamo rimpianti c'è chi nonostante la distanza il brutto tempo e la foschia ha filmato comunque la bomba d'acqua ci sono ci sono anche qui tutta la ricostruzione io credo che questa sia diventata poi col tempo un po' per tutti una bomba spot una bomba spot per tutti quando le cose hanno visto che sono andate bene tutti a salire sul carro dei vincitori a dire che siamo stati bravi quanto siamo stati bravi e ci sono alcune cose sinceramente che andrebbero cioè non è che andrebbero chiarite perché fa ridere insomma però ecco sicuramente è diventata poi nel tempo una bomba spot possiamo dirlo così anche perché se è vero com'è vero che lo hanno detto loro che ne arrivano e ne disinnescano tantissime durante l'anno parliamo di centinaia e centinaia l'Italia dovrebbe essere tutta in emergenza un giorno sì e l'altro pure in realtà qui sembra che sia scoppiata la fine del mondo però per carità poi tutto è andato bene quindi questa è la cosa che conta il boato l'ultimo grido dell'ordigno tutto finisce in un getto alto di 30 metri anche qui hanno chiesto quanta carica è stata usata per far esplodere questa bomba e sul quantitativo non è stata data risposta c'è la registrazione anche qui sarebbe stato interessante capire quanta carica sia stata usata per far esplodere questa bomba così mica peraltro poi eravamo oltre vabbè poi tutto il racconto chiaramente anche qui su quello che è stato su quella che è stata questa operazione nonostante il mare fosse comunque mosso forse forti correnti eccetera eccetera insomma questa è anche la visibilità si parla di visibilità zero però poi a guardare le immagini insomma io adesso non sono un esperto quindi ecco se questa è la foto la visibilità non era proprio zero comunque esplode la bomba è come un terremoto fatta brillare in mare solleva una colonna d'acqua a 30 metri questa è invece la pagina del resto del Carlino ma il Carlino nazionale quindi ha avuto un'eco importante anche a livello nazionale anche i telegiornali ieri comunque sono tornati su questa cosa i palombari della Marina hanno agito in una situazione estremamente difficile il prefetto ha detto ora siamo più tranquilli e senza rimpianti andiamo avanti questa è invece l'immagine dei parenti che non sono stati avvisati della morte di questo novantenne Marche Nord avvia audizione di infermieri i sindacati sono duri manca un regolamento l'uomo di novantanni morì in medicina a Pesero ma per due giorni non sono stati informati i congiunti velocemente la pagina di Fano ad uccidere Carmen non furono i medici tutta colpa del virus della quinta malattia morta di parto il PM chiede l'archiviazione per 12 sanitari e ancora questa è la notizia che arriva da Marotta assumo al ristorante 5 persone per l'estate ma non riesco a trovare gente qualificata è la paradossale situazione del titolare di un ristorante che si chiama Burro e Alici cerca 5 persone per la prossima estate ma non riesce dice lui a trovare gente qualificata attenzione gente qualificata chiederemo di annullare invece la privatizzazione della sanità questa è la notizia da Fossombrone il sindaco Bunci lancia la proposta e sotto la frana di Bocca Trabaria sarà sistemata entro la fine dell'estate velocemente Urbino si parla di fusione fusione della città ducale con altri paesi di vicino ma anche per avere soldi soldi per il comune sapete che c'è questa legge che agevola le fusioni tra i comuni e ci sono delle sovvenzioni in qualche modo dei finanziamenti 5 stelle però dicono promettono dei soldi lo Stato ci darà dei soldi ma ci saranno poi e soprattutto quanti saranno l'ultima pagina invece per lo sport perché a Pesaro è stato esonerato il mister della vis il mister dei record la società affida la squadra ad amore tecnico della Juniors Biancorossa è tutto grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa noi ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia e il telegiornale se avete segnalazioni 338-496-8250 buona giornata a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.